Allora, tra qualche istante partirà una manifestazione sull'emigrazione a Lauria e due nemolesi d'ocche che ne sanno molto di emigrazione, Salvatore Lovoi e Francesco Zacchera, due giornalisti molto conosciuti e assai dinamici qui sul territorio. Cosa vi aspettate da questa serata? Prego, prego. Mi aspetto di conoscere dei risvolti che già ho letto su qualche articolo di Carmine Cassino, soprattutto su un'emigrazione particolare che poi è proseguita, è iniziata nell'Ottocento ma è proseguita negli anni Cinquanta. Noi abbiamo per esempio a Nemoli dei rappresentanti che ancora sono vivi, che avevano impiantato delle imprese di costruzioni a Montevideo per esempio. Io spero di approfondire il rapporto che c'è ancora oggi tra chi se n'è andato e chi è rimasto a Lauria, quindi uno scambio tra le generazioni per vedere pure sul piano sociale che cosa li lega. Grazie.